Musica Le notizie di oggi venerdì 6 settembre, ben ritrovati, è stato trovato morto a bordo della sua auto a Iesi Stefano Piangerelli, il tecnico di 56 anni di Belvedere Ostrense, scomparso la mattina di ferragosto e cercato per giorni nella zona da un ingente spiegamento di polizia, carabinieri, vigili urbani e volontari della protezione civile. Secondo il medico legale potrebbe essere morto per un malore, ma il magistrato ha disposto un'ispezione cadaverica. L'uomo si era fermato lungo la strada che collega Iesi e il comune di San Marcello. La vettura era nascosta da rovi e siepi. Un passante che portava a passeggio il proprio cane ha avvertito un odore nauseabondo provenire proprio dall'auto e ha chiamato il 112. Gli ultimi tre mesi di attività dei carabinieri di Senigallia, il servizio. È stata resa nota l'attività dei carabinieri della Compagnia di Senigallia. Nel trimestre giugno-agosto 2013 hanno dato luogo a numerosissime attività sia di carattere preventivo che repressivo. Per quanto riguarda la Compagnia di Senigallia, quest'anno possiamo registrare un incremento notevole delle attività esterne e quindi di proiezione dei carabinieri sul territorio, non solo nella città di Senigallia ma nell'intera giurisdizione. Questo ha garantito una copertura del territorio massiccia e un abbattimento dei reati predatori che sono passati da oltre 600 del 2012 nel trimestre giugno-agosto a meno di 500 nello stesso trimestre del 2013. Inoltre di contro sono aumentati gli arresti in flagranza di reato da 19 a 39. e quindi chiaramente la presenza dei carabinieri ha costituito un valido deterrente per i criminali. Per quanto riguarda i reati predatori abbiamo registrato un'influenza notevole di persone esterne e strane alla giurisdizione provenienti da altri territori e gli arresti, soprattutto quelli più importanti, che hanno permesso di recuperare anche parzialmente la rifurtiva trafugata, ci ha permesso di individuare in soggetti di etnia Rom i responsabili, provenienti da Torino, da Napoli e dal Terramano. La terra madre è la difesa della biodiversità, del valore e della proprietà dei semi per impedire l'utilizzo di quelli geneticamente modificati nelle coltivazioni. Sono le linee guida dell'impegno mondiale di Vandana Shiva, le stesse che in 33 anni di attività e di impegno nell'agricoltura biologica hanno sempre motivato la cooperativa La Terra e il Cielo di Pieticchio di Arcevia, che domenica 8 settembre alle 10 nella propria sede ospita l'attivista e ambientalista indiana. Seminario nazionale di educazione interculturale, il servizio. La comunità di volontari per il mondo ha organizzato il settimo seminario nazionale di educazione interculturale, una nuova etica per i curriculi della cittadinanza globale, nei giorni 6, 7, 8 settembre, nella sede del liceo scientifico statale Medi di Senigallia. Dare degli strumenti in più ai nostri docenti su una tematica, quella dell'interculturalità che oggi diventa essenziale nell'educazione dei nostri ragazzi. La regione ha seguito molto da vicino questo progetto, lo accompagna e credo che i docenti che vi partecipano traggono sicuramente elementi di novità e soprattutto di stimolo nella preparazione dei programmi per i propri ragazzi. Lavorare per una scuola nuova per migliorare la società. Noi siamo convinti che l'attuale crisi non sia tanto economica e finanziaria quanto piuttosto culturale e morale. Per questo nel nostro seminario si vuole dare agli insegnanti gli strumenti per rinnovare e cambiare l'assetto scolastico proponendo ai ragazzi nuove speranze in un momento in cui questi non hanno praticamente, nella città di oggi, i valori che servono per affrontare il futuro. La prima volta quest'anno che l'Europa ha deciso di mettere a bando la possibilità di parlare di scuola in un certo modo e CVM è stato il primo organismo italiano a ottenere questo finanziamento che ci permette di continuare il percorso, il percorso che fondamentalmente non diventa solo italiano ma europeo e vuole rispondere a una domanda fondamentale, come bisogna insegnare per far capire quelli che sono i problemi globali dell'umanità, cioè perché ancora nel 2013 abbiamo quasi un miliardo di persone che ha problemi con la fame, perché attualmente abbiamo l'80% dell'umanità che vive con meno di 300 dollari al mese, perché tutti questi problemi? Sabato 7 settembre alle 21 si terrà la premiazione dei vincitori del concorso di poesia Cesare Vedovelli organizzato dal Circolo Acli di San Silvestro di Senigallia. Giunto quest'anno all'ottava edizione, il concorso si articola nelle categorie della poesia in lingua italiana e in quella dialettale. Ludovico Ciabattoni, classe 93, si è giudicato martedì sera nel campo centrale del Vivere Verde, il secondo torneo l'invernale di Marchini Gomme, battendo nettamente per 6-0-6-4 il 4-1 Giuseppe Galli del Cittico Rinaldo, arrivato a sorpresa in finale dopo aver battuto Andrea Bolognesi, costretto al ritiro al terzo set per problemi fisici. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon fine settimana e l'appuntamento è per lunedì prossimo.